Buongiorno e benvenuti al Centrosato Autosystem di Palermo. Io sono Pietro Ripaudo, consulente alle vendite. Alle mie spalle trovate delle vetture rientranti nel programma Volkswagen Outlet. Andiamo a spiegare cos'è il programma Volkswagen Outlet. All'interno del programma Volkswagen Outlet ci sono vetture solo ed esclusivamente di marchio Volkswagen che hanno superato i 110 controlli da sveltauto, che sono unico proprietario e che sono state utilizzate per un massimo di 4 anni. Volkswagen conosce perfettamente la storia di queste vetture dal momento in cui vengono prodotte al momento in cui deciderete di acquistarla. Veniteci a trovare nel nostro centro usato, via la Regione Siciliana Nord-Ovest numero 6855 a Palermo. Grazie e una buona giornata.